Musica Proseguono senza sosta le ricerche della novantenne di Civita Campomarano scomparsa dal primo pomeriggio di ieri. Dopo il taglio di 4 miliardi alla sanità pubblica da parte del governo, il presidente Roberti non ci sta e chiede più fondi per i nostri ospedali, domani da Giorgetti. Provinciali Isernia Ricci si ricandiderà per ultimare il lavoro avviato e per confermare la filiera del centro-destra, detto ai nostri microfoni. A Fornelli l'ottantesimo anniversario dell'ecidio nazista che costò la vita a sei civili, tedeschi, in arrivo e risarcimenti. La scuola lievi agenti della Polizia di Stato Giulio Rivera lancia la settima edizione dell'iniziativa Maratona del Donatore. Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale Truffa agli anziani a Pesche. La sanità polisana ha beccato un minore, gli agenti lo avrebbero colto in flagranza mentre tentava di essorcere denaro ad alcuni cittadini del posto. I dettagli ve li daremo nella edizione serale del nostro telegiornale. E dopo il taglio di 4 miliardi alla sanità pubblica da parte del Governo, il Presidente Roberti non ci sta più fondi per i nostri ospedali, dice. E domani a Roma incontrerà il Ministro Giorgetti. E sul nuovo ospedale di Isernia, Roberti conferma, il progetto va avanti in servizio di Antonio Leone. La sanità molisana che con l'arrivo del nuovo Governo regionale targato Francesco Roberti sperava finalmente di gettarsi alle spalle il periodo più buio caratterizzato da taglia, reparti e prestazioni, ora deve fare conti con la drastica riduzione della spesa per la salute pubblica decisa a livello nazionale. Circa 4 miliardi di euro in meno gli investimenti che potrebbero gravare sulla quantità ma anche sulla qualità dei servizi erogati. Il Presidente Roberti non ci sta e di ritorno da Torino, dove ha preso parte al Festival delle Regioni, ha annunciato che insieme ai suoi colleghi governatori è pronto a battere cassa per la sanità. Il Governo Meloni dovrà stanziare almeno altri 11 miliardi di euro. Tornando da Torino, in qualità di tutti i Presidenti delle Regioni, abbiamo espressamente detto al Governo che ogni regione è in difficoltà sotto l'aspetto sanitario, quindi saranno necessarie ulteriori risorse e abbiamo già rivendicato che dovranno essere messe a disposizione per la sanità e per le Regioni all'incirca altri 11 miliardi di euro. Questo contribuirebbe attraverso una ridistribuzione del fondo anche alla Regione Molissi uscire da questa difficoltà che abbiamo, perché il nostro è un debito strutturale, è un debito che in qualche maniera bisogna necessariamente metterci mano, ma nella stessa misura far capire che occorrono ulteriori risorse per una Regione come il Molise. Il problema di fondo per il Molise resta sempre lo stesso, rendere la sanità regionale attrattiva per i medici, anche perché i concorsi indetti dall'ASREM continuano ad andare deserti. Ieri ho incontrato a Torino anche il ministro Schillaci, con lui abbiamo parlato delle problematiche che ci sono all'interno degli ospedali, della carenza del personale medico, della carenza del personale infermeristico, ma anche delle scarse risorse, perché i medici, guarda caso, nel privato si trovano e si trovano anche i medici gettonisti. Poi si va nel pubblico e vediamo che nel pubblico siamo carenti di medici, perché giustamente quello che gli viene riconosciuto come ritribuzione rispetto agli ospedali privati è molto più bassa. Quindi anche su questo, a livello nazionale, ci dovrà essere un confronto sereno, ma anche un confronto pratico e reale che possa dare dignità a questa professione. Infine il Presidente ha fatto il punto sul veneziale di Sernia, sottolineando come prosegue l'IDER per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero. Stiamo facendo il giro dei diversi ospedali che abbiamo nella nostra regione. Siamo partiti oggi qui a Sernia. Tenete conto che sui Sernia era già previsto un intervento della costruzione di un nuovo ospedale. Su questo si va avanti in quella direzione, perché i 100 milioni che sono a disposizione possono essere utilizzati esclusivamente per poter costruire altri ospedali, non in altre maniere, altrimenti rischiamo poi di non dare le giuste informazioni. Ma questo non vuol dire che attraverso una rivisitazione di tutto quello che sarà, insieme ai direttori generali, insieme ai commissari, che sarà una riorganizzazione della struttura sanitaria, ma questa organizzazione passerà attraverso un confronto, ma anche una collaborazione stretta con il Ministero. Ma la sfida da vincere al più presto sembra proprio quella di aumentare la spesa sanitaria, altrimenti il nuovo ospedale di Sernia rischia di diventare l'ennesima cattedrale nel deserto, come la struttura realizzata da Agnone che avrebbe dovuto essere. Un fiore all'occhiello della sanità molisana, invece da anni, abbandonata a se stessa con il vecchio caracciolo, che intanto è diventato poco più di un poliambulatorio. La direzione dell'ASRE mi ha messo di nuovo a bando alcuni posti per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici nella disciplina di cardiologia, precisando che la graduatoria del concorso medesimo verrà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione. E ora parliamo delle provinciali a Isernia. Il presidente uscente si ricandiderà per ultimare il lavoro avviato e per rafforzare la filiera del centro-destra. Questo è quanto ha detto ai nostri microfoni Alfredo Ricci. Sentiamo il servizio di Domenico Marzocchella. L'iter legislativo per far tornare direttamente cittadini e non altri amministratori ad eleggere i componenti del Consiglio provinciale, presidente in primis, procede spedito ma non si concluderà in tempi rapidi. Dunque la prossima chiamata alle urne a via Berta per l'elezione del presidente, fissata per il 19 novembre, sarà ancora regolata dalla legge del Rio e, probabilmente, l'eletto resterà in carica per l'intera consigliatura. Lo ha affermato stamane ai nostri microfoni Alfredo Ricci. Mentre per il candidato del centro-sinistra siamo ancora alle ipotesi. Circolano i nomi del sindaco di Agnone, Daniele Saia, del suo omologo di Capracotta, Candido Paione e new entry delle ultime ore del sindaco di Sernia, Piero Castrataro, quel che è certo è che il presidente uscente si ricandiderà, proponendosi come riferimento per il centro-destra. La motivazione politica è spiegata dallo stesso protagonista della scelta. Abbiamo lavorato per ottenere un bel risultato, come c'è stato, alle politiche dello scorso anno. Abbiamo lavorato per ottenere nei mesi scorsi il risultato che c'è stato sulle regionali. È chiaro che oggi la filiera politico-istituzionale deve in qualche maniera compiersi, confermando i due vertici delle due province, anche per evitare uno scollamento, che è un rischio che non possiamo permetterci, tra il governo nazionale e il governo regionale da un lato e la provincia e i territori provinciali dall'altro lato. È importante lavorare insieme e quindi ragionare in questa maniera per evitare anche delle interruzioni. Non possiamo permetterci di perdere tempo dietro magari ad esperienze o proposte avventuristiche o fatte soltanto per un discorso personale. Abbiamo una programmazione da portare avanti insieme al governo regionale e al governo nazionale. La riforma delle province con il superamento definitivo della legge del Rio, voluta dal governo di centro-sinistra nel 2014, è una necessità, ma lo è non per la provincia come ente, lo è per i cittadini che in questi anni, a causa di quella legge, hanno avuto sempre più difficoltà a percorrere in condizioni di sicurezza le strade provinciali e a frequentare le scuole superiori delle nostre province, non solo della provincia di Sernia. Ecco, quella riforma è stata una riforma contro i cittadini, che va superata. Il governo attuale ha dato una forte accelerazione all'iter di riforma. Probabilmente, lo sapremo, diciamo, proprio in questi giorni in vista dell'Assemblea nazionale del lupo in programma per la settimana prossima, probabilmente la riforma non andrà in vigore il prossimo anno, perché ci sono, vanno affinate una serie di dettagli che richiedono una tempistica, che si vedrà quale sarà, per cui la durata di questo mandato che andremo a rinnovare potrebbe essere anche una durata ordinaria. Nella giornata di ieri, il Tribunale monocratico di Campobasso, nella persona del giudice Adele Dei Santi, ha condannato nuovamente, ad un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno, un uomo accusato di stalkic con recidiva specifica. La vicenda trae origine da fatti pregressi, già decisi dallo stesso Tribunale di Campobasso, che con sentenza irrevocabile ha condannato l'imputato per atti persecutori. Imputato che nemmeno dinanzi al provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento e nonostante una condanna irrevocabile per stalking nei confronti delle stesse persone, ha desistito dalle proprie condotte criminose. Soddisfatto l'avvocato Guido Rossi, del foro di Campobasso, difensore delle persone offese. La mancanza di un dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise impedisce che si attuino nella nostra regione provvedimenti già applicati in Italia, tra questi anche, per esempio, gli aumenti degli stipendi. Il mondo politico si è totalmente disinteressato del problema. Sentiamo Francesco Adamo. La mancanza di un dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise dopo il passaggio della dirigente Sabatini a Roma impedisce che si attuino nel Molise provvedimenti già applicati in Italia, fra questi anche gli aumenti degli stipendi. L'ultima, quella più eclatante, è che i dirigenti del Molise a settembre non hanno avuto lo stipendio aggiornato in base al CIN firmato il primo agosto. Semplicemente perché in assenza del direttore o del dirigente dell'USR nessuno poteva firmare i provvedimenti, se non il capo dipartimento. La notizia che ho avuto è che l'USR, qui, gli imbiegati, i dirigenti che stanno, hanno preparato i provvedimenti, però non sono stati firmati. Quindi l'unica regione che a settembre non ha avuto. Questo è il segnale che non si può lasciare un ufficio per mesi senza un dirigente. Il sindacato rimarca la totale mancanza di attenzione sul tema. Insomma, ritengo che la politica dovrebbe, come dire, darsi la mossa, spingere, sollecitare il ministro, io glielo avrò detto due o tre volte, anche in questa occasione, perché ho segnalato io al ministro che vedi che a settembre i politici di reggiatura non hanno percepito la retribuzione adeguata, aggiornata. Decidetevi a nominare, però la politica serve più del sindacato in questo caso. Altre difficoltà a livello nazionale riguardano importanti fondi fra PNRR e FERS. Ma questa non riguarda solo il Molise, riguarda un po' tutta l'Italia. Abbiamo, prima di tutto c'era la scadenza del PNRR al 30 settembre, grazie a Dio abbiamo fatto capire al ministero, al MEF, eccetera, e hanno dato una proroga, o una seconda proroga, per due mesi, quindi abbiamo ottobre e novembre. Però ce n'è un'altra, il 16 prossimo avventuro, per quanto riguarda i FESR, che si tratta di cifre abbastanza consistenti, le scuole interessate andiamo dai 200 ai 250 mila euro. Non è possibile, è chiaro, proprio matematicamente, non sarà possibile fare tutti gli allebimenti, gli acquisti, eccetera, entro i 16, quindi dalle due l'una. O il ministero si decide a dare proroga anche per i FESR, oppure questi soldi torneranno indietro, sarebbe un grande peccato, insomma. I carabinieri di Termoli hanno arrestato un 44enne di origini napoletane, già con precedenti di polizia, accolto in flagranza del reato di truffa. Il 44enne, spacciandosi per un sedicente avvocato, ha contattato un 75enne residente, proprio nel palazzo, dal quale il finto avvocato era stato visto uscire dagli uomini dell'arma. Gli aveva detto di recarsi subito presso il locale nosocomio, perché il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, sempre da lui provocato, e che bisognava pagare immediatamente 2400 euro in contanti per evitarne l'arresto. Ricevuto il denaro, l'uomo ha poi tentato di dileguarsi, prima di essere fermato dai carabinieri. All'ospedale di Isernia la piantumazione di alberi per ricordare che la salute dei cittadini parte dal rispetto dell'ecosistema, l'iniziativa promossa dai carabinieri per la biodiversità e la fado i dettagli nel servizio di Antonio Leone. Nel giorno in cui si festeggia San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, ma anche degli ecologisti, presentato il progetto nazionale Un albero per la salute, iniziativa promossa dalla Federazione delle Associazioni, dei dirigenti ospedalieri internisti, con la collaborazione dei carabinieri reparto per la biodiversità, 30 gli ospedali italiani coinvolti, tra cui anche il veneziale di Isernia, questa mattina la piantumazione di tre alberi, proprio dinanzi al presidio. L'obiettivo, quello di sensibilizzare la cittadinanza riguardo al rispetto dell'ambiente, perché la salute di tutti dipende da molti fattori collettivi, in primisi il rispetto dell'ecosistema in cui si vive. Questa è una giornata di sensibilizzazione che appunto è stata voluta dagli organi di vertice che hanno siglato questa collaborazione con la Fadoi, che è appunto l'associazione dei dirigenti medici internisti, e viene svolta oggi su tutto il territorio nazionale attraverso i 28 reparti carabinieri biodiversità, dove appunto mettiamo a disposizione, a dimora, degli alberi. come gesto simbolico per evidenziare appunto la connessione e l'interdipendenza della tutela della salute della persona con la tutela degli ecosistemi in cui abitiamo. La Fadoi con questo progetto nazionale e in collaborazione con l'arma dei carabinieri raggruppamento biodiversità, intende sottolineare l'importanza del legame tra salute delle persone e salute dell'ecosistema. Questa manifestazione che si svolta in Sernia è solo una delle 30 che si stanno svolgendo contemporaneamente in tutta Italia? Sì, esatto. In questo momento in 30 ospedali italiani, tra cui anche nel nostro ospedale di Sernia, si sta assistendo alla donazione e alla piantumazione di giovani alberi che possono essere geolocalizzati fotografando un apposito cartellino e possono essere seguiti nella crescita e nel risparmio di CO2, di anidride carbonica, attraverso un sito web. Presenti oltre a numerose autorità e al personale sanitario del Veneziale, anche il governatore Roberti e il nuovo direttore generale Asrem Giovanni Di Santo che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. Questa è una giornata che può avere una molteplice interpretazione. La mia presenza voluta qui e anche nella organizzazione di questo evento, che è un evento che si sta celebrando in 30 ospedali italiani in associazione con il gruppo Biodiversità dei Carabinieri e il Ministero dell'Ambiente, ha un significato importante. Anche la piantumazione di queste piante che potranno essere anche geolocalizzate ha il significato di iniettare l'infa vitale all'interno di strutture ospedaliere. E questo concetto, se lo vogliamo migrare o trasmigrare in un concetto più ampio che può essere quello del benessere, quindi dell'organizzazione della salute in termini globali, quindi non solo salute psicofisica, ma anche una salute ambientale che viene inserita in questo contesto di piantumazione delle piante messi a dimora qui nell'ospedale, ha il significato di una rinascita. Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, estorsione, autoriciclaggio e detenzione abusiva di armi. Sono le ipotesi di reato a vario titolo a carico di 33 persone arrestate dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le persone in questione ripulivano i soldi della droga attraverso negozi cinesi dell'Esquilino e li inviavano poi in Cina. L'ordinanza di custodia cautelare è scattata questa mattina nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e anche Campobasso. 22 le persone che sono finite in carcere, 11 quelle invece finite ai domiciliari. Nel ricordo dei martiri di Fornelli nel paesino in provincia di Sernia l'ottantesimo anniversario dell'eccidio nazista che costò la vita a sei civili. Domenico Marzocchella. Il 4 ottobre 1943 a Fornelli, paesino in provincia di Sernia, all'epoca dei fatti in provincia di Campobasso, le truppe di occupazione tedesche compiono un eccidio di civili, impiccati sei uomini, tra cui il Podestà. Il massacro segue ad una serie di operazioni di sabotaggio contro i nazisti, tra cui l'uccisione di un soldato tedesco il giorno prima. L'episodio, nel corso di una requisizione forzata da parte dell'esercito occupante di derrate alimentari e di bestiame. Ogni anno, il 4 di ottobre, nella frazione di Castel Cervaro in cui avvenne la barbara esecuzione, con tutta la cittadinanza costretta ad assistere, davanti alla stela commemorativa, la cerimonia in onore dei martiri. Oggi, l'ottantesimo appuntamento con la dolorosa ma necessaria memoria. Il corteo di militari e civili è partito dalla Casa Comunale, primo step davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre. Qualche passo più in là, salendo verso il castello, la cerimonia è proseguita al cospetto della targa in onore del Podestà, il primo ad essere messo a morte. Il culmine della manifestazione, come dicevamo all'inizio, nel luogo dell'Eccidio. Ricordare sempre, anche se poi noi abbiamo un po' la memoria corta, nel senso che ci ricordiamo solo in determinati momenti del sacrificio dei nostri eroi e di quanto le guerre siano brutte. In un periodo in cui l'Europa sta vivendo una guerra ai propri confini, l'Africa sta vivendo una guerra, in altri paesi del mondo ci sono forti destabilizzazioni. Quindi nel momento in cui noi ricordiamo i nostri eroi dobbiamo ricordarci, essere consapevoli che le guerre non vanno fatte, che ci sono altri strumenti per raggiungere gli equilibri e la pace. Quest'anno, a margine dell'evento, una significativa, addirittura storica novità, con il decreto emanato dal governo lo scorso luglio, resa esecutiva la sentenza di condanna nei confronti della Repubblica Federale tedesca. Agli eredi delle vittime andranno 12 milioni di euro e al comune 637 mila euro. Si è provveduto negli giorni scorsi ad inoltrare la richiesta al Ministero per ottenere il risarcimento, quindi dalla data di inoltro della richiesta come da decreto del Ministero ci sono 180 giorni per l'accredito delle somme, quindi stiamo aspettando e siamo fiduciosi. A proposito, al comune di Fornelli andranno circa 600 mila euro. Cosa farete? Come impiegherete queste risorse? Gran parte di queste risorse verranno ovviamente impegnate per la memoria dei nostri martiri, quindi poi ci sarà un tavolo anche con i familiari e vedremo di portare avanti un discorso per quanto riguarda l'investimento per la futura memoria dei nostri martiri. Giuseppe Castaldi era uno dei sei saliti sulla forca. Ai nostri microfoni il nipote che porta il suo nome. Mio padre era un figlio diretto di un martire, quindi aveva 16 anni, ha seguito tutto, diciamo, l'iter, la scena, l'impiccaggione, anche seppur da lontano, però visto tutto questo gli è rimasto molto nel cuore. In più, quando sono rimasti per 20 giorni a terra, su quel luogo, perché qualcuno è andato a tagliare le corde perché voleva portarsene via magari i familiari, però non ci sono riusciti perché sono ritornati i teschi e questo per loro è stato veramente un sacrilegio più che altro perché quando sono andati a raccogliere dopo 20 giorni era rimasto ben poco perché erano, diciamo, la notte andavano gli uccelli rapaci, li beccavano, di giorno le galline e quindi loro, il dramma nel dramma. Questo risarcimento? Questo doveva essere forse fatto 70 anni fa oppure appena dopo che era successo questo misfatto perché poi i nostri genitori sono rimasti senza casa le nostre nonne sono rimasti senza casa quindi tutta la frazione era stata rasa al suolo quindi penso che questo doveva avvenire molto prima. Due giovani in nazionalità straniera sono stati investiti da un'auto lungo la statale 17 nei pressi del centro commerciale di Isernia. Episodio ieri sera intorno alle 21.30 il conducente dell'auto una lancia Y si è subito fermato a soccorrerli. Sul posto anche i sanitari del 118 di Isernia che hanno medicato i due feriti le loro condizioni non sono gravi intervenuti anche i carabinieri per i rilevi del caso. Dopo oltre 200 anni torna la scherma al castello ducale di Pesco Lanciano che sabato ha fatto da cornice alla prima manifestazione promozionale di Spada e di Fioretto. Sentiamo Carla Marino. Non poteva esserci cornice più significativa per la scherma che quella del castello ducale di Pesco Lanciano tra le magnifiche mura e i giardini del Maniero che nei secoli hanno sentito risuonare il clangore delle spade e delle armi bianche sono tornati a fare la loro comparsa gli spadaccini. Si tratta degli schermi d'ori che hanno partecipato sabato alla prima manifestazione promozionale di Spada e di Fioretto organizzata dalla famiglia d'Alessandro in collaborazione con la delegazione Federscherma Molise il comune di Pesco Lanciano e il sacro militare ordine costantiniano un ritorno che era ormai atteso da più di 200 anni come sottolineato da Cristian Di Palma delegato della Federscherma Molise. Oggi è stata veramente una giornata importante per la scherma molisana perché siamo tornati a riportare la scherma dopo oltre due secoli al castello di Pesco Lanciano il castello di Pesco Lanciano che è stato luogo deputato per tanti anni secoli direi grazie alla famiglia d'Alessandro che ha voluto questo evento perché si legano le vicende della famiglia a un'epopea cavalleresca ed equestre. Al torneo hanno partecipato alcuni fra i nomi più promettenti del panorama Under 14 di Molise Lazio Umbria Marche Campania e Lombardia presente anche il maestro Filippo Romagnoli dello staff tecnico della Nazionale di Fioretto e le atlete azzurre Beatrice Monaco e Serena Rossini delle Fiamme Gialle un segno del crescente interesse che in Molise si sta raccogliendo intorno a questa disciplina. In Molise grazie ecco a un maestro eroe che è il maestro di Paola il mio papà io sono figlio figlio d'arte perché ho fatto schermo fino a 25 anni papà ancora continua a fare il maestro in due società una sua allieva ecco lei che porta avanti la scherma a Campobasso quindi comunque abbiamo rappresentanze sia nei tre i luoghi più importanti molisani che è Termo di Campobasso e Sernia con circa una cinquantina di atleti nelle rispettive armi sia Fioretto che Sciabola che Spada maschietti e femminucce e quindi comunque danno lustro a uno sport molisano che ripeto ha una tradizione importante. A fare gli onori di casa il Duca Ettore d'Alessandro delegato per il Molise del Sacro Militare Ordine Costantiniano il più antico del mondo. In famiglia abbiamo avuto degli antenati presenti nell'ordine già dal Settecento e l'ultimo è stato appunto importante l'ultimo personaggio importante il Duca Giovanni Maria capo squadrone delle guardie d'onore del contato di Molise e fu appunto nominato da Francesco II Balì Gran Croce di Giustizia e noi proprio in virtù di questa tradizione siamo ancora presenti anche con l'ordine a memoria di quello che fu il regno delle due Sicilie con Casa Borbone di cui noi abbiamo portato una rappresentanza di lame collegate proprio alla manifestazione di oggi che sono appunto lame napoletane dei vari reggimenti Era il 1723 quando il Duca Giuseppe d'Alessandro scrisse il saggio L'arte della professione della spada ed altri esercizi Sono 300 anni appunto dalla pubblicazione di questo trattato Arte del Cavalcare e quindi trattato anche sulla spada noi appunto speriamo di portare alla memoria di tutta la realtà sociale quindi sia gli sportivi schermitori sia gli sportivi del mondo culturale e soprattutto la popolazione locale appunto questa memoria di questo antenato che appunto fu un bravo spadaccino e anche un abile letterato e tecnico di questa di quest'arte Dalle 21 di ieri il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato impegnato su richiesta della prefettura di Campopasso nella ricerca della novantenne dispersa Civita Campomarano le attività sono proseguite tutta la notte con ricerche di superficie a partire dal punto di ultimo avvistamento nelle zone adiacenti l'area urbana dell'abitato i tecnici si sono anche occupati di spezionare alcuni dirupi e canali mediante diverse calate su corda la prefettura di Campopasso ha diffuso la foto della signora Anita Conti che al momento dell'annontanamento indossava un pantalone e un maglioncino nero una vestaglietta blu con pallini o fiorellini chiari e delle pantofole chiuse chiunque la individui è invitato a contattare con ogni urgenza i numeri di emergenza le ricerche sono tuttora in corso la scuola allievi agenti della polizia di stato Giulio Rivera in collaborazione con l'ispettorato delle scuole della polizia di stato lancia la settima edizione dell'iniziativa maratona del donatore l'evento per sensibilizzare i frequentatori dei corsi sull'importanza della donazione Francesco Adamo Anche oggi è andata avanti la campagna di donazione organizzata dalla scuola allievi agenti della polizia di stato Giulio Rivera di Campobasso in adesione all'iniziativa maratona del donatore giunta alla settima edizione e sostenuta dalle scuole della polizia di stato il messaggio forte dell'evento la sensibilizzazione alla donazione ancora più forte perché lanciato in prossimità delle celebrazioni del santo patrono della polizia San Michele Arcangelo rappresento come presidente della regione della sezione molise l'associazione donatori nati che è un'associazione nata nel 2003 d'intesa con la polizia di stato e adesso fa parte dell'associazione donatori nati anche il corpo dei vigili del fuoco nasce sullo spirito che caratterizza l'istituzione della polizia di stato che è quella appunto della donazione del servizio al cittadino e al paese e quale migliore dimostrazione di servizio se non quella di donare in questa scuola abbiamo avuto circa 100 ragazzi che doneranno quindi è un numero particolarmente elevato perché è necessario sensibilizzare tutti i cittadini donare è importante oltre 100 allievi dell'istituto frequentatori del 223 corso per allievi agenti e del quinto corso per vice ispettori tecnici stanno donando il sangue in coerenza con i valori su cui si fonda la polizia di stato in particolare con l'impegno al servizio del paese nello spirito del motto esserci sempre le postazioni di donazione sono allestite con la collaborazione dell'associazione donatori nati della polizia di stato presso il piazzale d'armi della scuola questa iniziativa maratona del donatore è stata voluta dall'ispettorato delle scuole della polizia di stato per sensibilizzare tutti gli allievi agenti che in questo momento stanno frequentando un corso di formazione ed è caduta proprio in occasione della festa di San Michele Arcangelo nostro santo patrono pensi che in questo momento su tutto il territorio nazionale è in atto il 223 corso di formazione per allievi agenti che vede impegnati 1940 allievi agenti soltanto 178 sono qui presenti a Campobasso ed un centinaio di loro hanno deciso di avvicinarsi a questa campagna Ugo Martino presidente della ONLUS oltre la vita è in partenza per il Burundi per raggiungere gli operatori umanitari dell'associazione che sono già presenti in terra africana lo ha intervistato per noi Michele D'Alessio 4 ottobre la chiesa celebra San Francesco patrono dell'Italia il più santo degli italiani ed il più italiano dei santi Francesco era anche quel giovane di Sernino di 25 anni che nel 2005 perse la vita nel tragico incidente ferroviario di Roccasecca i suoi genitori Immacolata e Ugo due anni dopo la tragedia hanno voluto dare un senso diverso al loro futuro pensando proprio a Francesco è nata la ONLUS oltre la vita che da oltre 16 anni opera con finalità di solidarietà sociale umana e civile in nome di Francesco campo d'azione essenzialmente il lontano martoriato Burunti e proprio oggi Ugo insieme ad un dottore raggiunge quattro volontari che lo hanno preceduto in questo viaggio andremo al sud dove ci sono le nostre adozioni e dove ci sono soprattutto i due dispensari ognuno dei 12 posti letto che abbiamo realizzato già diversi anni fa e inutile dire che porteremo poi antibiotici materiali che aiutano medicinali tantissimi che ci hanno donato veramente e quindi andremo a verificare queste cose e poi per ultimo serviremo diverse capanne sugli altipiani con i pannelli solari ma c'è un progetto che sono già tre anni che va avanti e quindi andremo a integrare e se possibile a completare fino al 20 di ottobre prossimo auguri e siamo ora alle nostre previsioni del tempo il meteo è offerto da casa di cura villa dei platani malzoni di Avellino benvenuti al meteo di tv molise diamo uno sguardo alle previsioni per la giornata di oggi mercoledì 4 ottobre per la giornata di oggi sulla nostra regione si prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime tipiche di fine agosto 20 rotazione dai quadranti sud occidentali mare calmo temperature campo basso minima 13 massima 26 sernia minima 14 massima 27 termoli minima 20 massima 25 venafro minima 15 massima 29 vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani giovedì 5 ottobre per la giornata di domani si conferma il trend delineato per la giornata di oggi con tanto sole e temperature sopra media ma in leggera flessione negativa nei valori massimi venti dai quadranti sud occidentali mare poco mosso temperature campo basso minima 12 massima 25 esernia minima 15 massima 26 termoli minima 20 massima 24 venafro minima 15 massima 27 ed è tutto grazie come sempre per l'attenzione a tutti voi e a buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti